perché le olimpiadi sono un rifugio dalle tossine del calcio le olimpiadi come luogo di ristoro in mezzo alle tossicità del calcio nel mondo dello sport le olimpiadi rappresentano un evento di inestimabile prestigio e attrattiva riuniscono atleti da ogni parte del mondo e promuovono lo spirito di collaborazione e competizione in un'epoca in cui il calcio è sempre più caratterizzato da scandali e polemiche le olimpiadi offrono un rifugio tanto necessario dalle pratiche sporche associate allo sport più popolare del mondo i problemi sempre più gravi nel calcio come la corruzione la manipolazione delle partite e il coinvolgimento in casi di doping hanno fortemente danneggiato la reputazione di questo sport in paesi la fiducia dei tifosi e degli sponsor nel calcio è diminuita ulteriormente secondo gli esperti l'eredità pesante del calcio è particolarmente preoccupante poiché non riguarda solo gli atleti ma anche i valori che dovrebbero essere trasmessi nello sport in generale in contrasto ci sono le olimpiadi che continuano a rappresentare valori come la correttezza il rispetto reciproco e la sportività gli atleti olimpici sono spesso il prodotto di duro lavoro e dedizione e rappresentano il meglio che lo sport ha da offrire questo distingue le olimpiadi dall'attuale discussione sul calcio molti atleti si sentono meno influenzati dalla pressione e dalla commercializzazione nelle olimpiadi rispetto a quanto avvenga nel mondo del calcio un ulteriore aspetto che separa le olimpiadi dalle controversie del calcio è l'intero contesto in cui si svolgono le gare offrono una piattaforma per numerosi sport che spesso sono relegati all'ombra del calcio sport come judo scherma o atletica leggera grazie alle olimpiadi non solo ricevono attenzione ma anche un'opportunità per dimostrare il proprio valore al grande pubblico questa diversità è apprezzata dai tifosi il che rinforza ulteriormente l'immagine positiva delle olimpiadi alcuni critici sottolineano che anche le olimpiadi hanno i propri problemi e sfide di olimpiadi sono un simbolo della purezza dello sport e offrono una piattaforma per talenti di tutto il mondo per supportare quegli atleti che hanno perfezionato le loro abilità attraverso il duro lavoro e la dedizione in sintesi le olimpiadi rappresentano una piacevole alternativa ai problemi urgenti del calcio sono un luogo in cui l'idea di competizione sportiva e coesione viene realmente vissuta